I pazienti affrontano le maggiori difficoltà, secondo me, in questo momento nell'accesso alle prestazioni sanitarie. Abbiamo un sistema che non è centrato sul cittadino, quindi sul bisogno del cittadino di prestazione sanitaria e la riduzione di risorse a disposizione certamente ha aggravato questo problema. Oggi c'è un abbandono della prestazione sanitaria che è un fenomeno socialmente rilevante su cui noi ci stiamo confrontando perché il diritto alla salute sancito dalla Costituzione oggi riteniamo che sia quasi violato. C'è un problema di liste di attesa sulla diagnostica che è grave, credo, in quasi tutte le regioni e che deve essere affrontato perché la fornitura, l'offerta di prestazioni sanitarie deve essere calibrata sulla richiesta. È chiaro che in questo momento, anche in relazione a un fenomeno aberrante come la medicina difensiva, la richiesta di esami diagnostici è estremamente elevata rispetto forse alle necessità. Però il sistema deve confrontarsi anche con queste problematiche e trovare le soluzioni. La popolazione da terza età è la componente più fragile del sistema, del sistema direi non solo sanitario ma del sistema Stato, cioè il rapporto Stato-Cittadino oggi è un rapporto viziato e quindi il cittadino tende a vedere lo Stato e tutto il sistema pubblico come una controparte e devo dire che la popolazione anziana è sicuramente quella che ha minori possibilità di risolvere il proprio problema. La medicina del territorio non sempre è adeguata a coprire le necessità, quindi il sistema ospedaliero di cui ovviamente io sono rappresentante deve supplire a delle carenze evidenti di una medicina territoriale non adeguata alle necessità attuali.